Salvatore Ferraiolo era stato denunciato per stalking due volte dalla sua ex compagna. Anna Scala si era recata il 24 luglio dei carabinieri di Massalubrense e il giorno dopo nella caserma dell'arma di Piano di Sorrento. Poi il tragico epilogo di ieri con il ritrovamento in via Massimo a Piano di Sorrento del cadavere della donna all'interno del bagagliaio della sua auto. L'uomo, 54 anni, è indiziato per l'omicidio dell'ex compagna ed è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato, secondo quanto appreso dai carabinieri, ha confessato il delitto ed è stato portato nel carcere di Poggio Reale in attesa di giudizio. A rompere la quiete del piccolo comune della costiera, ieri pomeriggio le urla strazianti della donna avvertite da alcuni condomini di un edificio che si trova a poca distanza dal ritrovamento del corpo senza vita di Anna Scala. Il tempo di scendere in strada che si sono trovati davanti agli occhi una scena raccapricciante, una donna riversa nel bagagliaio di un'auto, una Citroen C3 bianca, sanguinante per le numerose coltellate con le quali era stata colpita alla schiena. Poche ore dopo si verrà a sapere il nome della vittima, Anna Scala, 56 anni, residente nella frazione Moiano della vicina Vichequense, parrucchiera a domicilio. Separata, aveva una figlia. Si trovava a Piano di Sorrento, secondo il racconto di alcuni testimoni, perché aveva un appuntamento di lavoro. Una donna raccontava di aver visto un uomo tutto vestito di nero, con il capo coperto da un cappellino da pescatore, poi ritrovato a terra, che si è allontanato rapidamente in scooter, proprio mentre veniva trovato il cadavere della donna. L'arma del delitto, ritrovata poi dai carabinieri in un giardino, un coltello da cucina. Dopo non molto in una zona sterrata del comune di Piano, i militari hanno individuato l'uomo che una volta bloccato è stato portato in caserma a Sorrento. Poi la confessione, una tragedia annunciata e l'opinione di chi conosceva Anna Scala, visto che la donna aveva denunciato due volte l'ex compagno per molestie. Ieri l'ha colta alle spalle di sorpresa mentre sistemava la spesa nel bagagliaio della sua auto. Le ha inferto diverse coltellate ed è scappato. Ora si attendono i risultati dell'autopsia.